Siamo riusciti a tenere due quarti con una squadra, secondo me, completa in tutti i reparti, dove i lunghi sono esperti, le guardie esperte. Non siamo riusciti a reggere il terzo quarto, dove abbiamo preso, penso, un 5-6 bombe di seguito e là la partita ha avuto la sua svolta. Io penso che i primi 5 minuti del terzo quarto sono stati i momenti fondamentali per loro per andare sopra di vento e poi gestire la partita.